buona giornata benvenuti amici di mister gadget ecco un altro appuntamento dedicato alle recensioni ci sono tanti telefoni lista d'attesa che aspettano di farsi conoscere questo è uno di quelli interessanti si chiama highway star 4g è un prodotto questo il prodotto lo vediamo dopo nella scatola offre il piripacchio per l'apertura degli slot dei sim e micro sd eccolo qui lo rinfiliamo con il singolo di wiko mobile carina l'idea anche di proteggerlo in questo modo per non bucarci i pantaloni carica batterie cavo per la ricarica o la connessione dati e poi le cuffiette confezione dunque comunque completa per questo prodotto anche prodotto completo arriva ad un prezzo di 349 99 era stato annunciato in alcuni paesi a 299 poi non so perché si è arrivato in italia con questo prezzo però di fatto insomma diciamo che tra le oscillazioni online e i prezzi che trovate in negozio insomma tra i 299 349 ma prezzo ufficiale 349 euro e 99 per avere un prodotto con un display da 5 pollici con la diagonale dunque da 5 pollici un display amoled con una definizione 720 per mille 280 la densità dei pollici la scheda ufficiale dice 294 pixel per pollice in realtà poi con insomma le software che gestiscono l'analisi di tutti i pezzi del telefono è indicato 320 dpi però insomma tutto sommato intorno ai 300 dpi mettiamola così telefono con su questo lato solo il controllo del volume quindi il volume rock vedete un telefono molto pulito la scelta è quella di un impatto unibody in alluminio in questo caso con un colore oro che sapete va per la maggiore in molti paesi del mondo su questo lato invece scheda per micro sd o una seconda sim che sarà una nano e questo invece l'accesso per la sim principale che invece è una micro sim questo il pulsante di accensione sulla parte inferiore attacco per la micro usb il microfono e l'alto parante che ha un discreto volume tra l'altro e poi per quanto riguarda il retro fotocamera da 13 megapixel che è una delle caratteristiche del nuovo wiko highway star 4g e poi la fotocamera frontale da 5 megapixel ma c'è una caratteristica molto interessante che è quella di avere il flash per il selfie guardate lo vedete in pratica in questa posizione flash dunque selfie per facilitare lo scatto dei selfie a bordo andiamo a vedere un attimo potrei anche usare le due dita una volta tanto andiamo a vedere le impostazioni di questo telefono andiamo a vedere soprattutto quale dotazione di software vedete a bordo c'è kitkat 4.4.4 invece per quanto riguarda l'hardware quindi ciò che muove questo telefono abbiamo un processore di mediatek che funziona devo dire discretamente bene c'è sempre una sorta di snobismo nei confronti di mediatek esattamente il 6752 che è un processore octa core con un clock a 1,53 gigahertz e che muove il telefono secondo me è bene 16 giga di memoria di cui 11 e 55 disponibili per l'utente 2 giga di ram abbiamo detto fotocamera con la parte posteriore da 13 megapixel la parte anteriore invece con 5 megapixel e poi invece per quanto riguarda la batteria 2450 mAh non è rimovibile con questo genere di processore e con questo tipo di display devo dire che vi troverete senza problemi ad arrivare alla fine della vostra giornata lavorativa e come si comporta poi il telefono vedete reattivo per quanto riguarda l'accensione vediamo subito come si comporta andando a pescare un sito non proprio leggerissimo lo diciamo spesso come quello del corriere andiamo a vedere poi la versione desktop che è quella che ci interessa per fare un po' di confronti nel frattempo andiamo a vedere anche una cosa importante quella della luminosità vedete potete settarla o in automatico oppure portare la luminosità al massimo la stiamo facendo noi in questo momento guardate una delle cose molto belle di questo telefono ad esempio è il bianco il bianco è veramente uno spettacolo guardate il processore mediatek che tutti maltrattano come si mangia il corriere della sera senza alcun tipo di incertezza perché poi sapete uno si costruisce un'idea magari con i processori di qualche anno fa ma in realtà questo si comporta più che bene adesso il refresh l'ha fatto perché io ho tirato verso il basso comunque vedete insomma veloce reattivo si comporta bene non si surriscalda ecco questo mi è capitato di provarlo anche in più di un'occasione e non ci sono rischi di surriscaldamento vorrei farvi notare che anche mediatek come huawei e altri produttori ha scelto di non avere un cassettino un drawer delle applicazioni tipico di android ma ha scelto di mettere le applicazioni tutte sullo stesso piano c'è da dire anche che a posto all'interno del suo sistema operativo insomma della sua personalizzazione del sistema operativo un impatto grafico un po più gradevole rispetto a quello di kitkat che ormai è un po antichello dentro l'impostazione ovviamente anche quella per gestire la sim adesso non c'è una seconda sim quindi non c'è la possibilità di fare le scelte ma inserendo una seconda sim potete scegliere quale accendere quale spendere e spegnere e soprattutto quale indicare come la sim predefinita e con quale sim anche andare a navigare non solo potete scegliere anche di associare determinati contatti a determinati numeri di determinati contatti ad un certo operatore in modo tale che chiamando quel contatto andrete direttamente a chiamare con il numero che avete scelto quindi insomma se avete un amante memorizzata ad esempio sulla vostra agenda avrete modo di chiamarla solo con il numero segreto e non con quella quello invece magari che è lo stesso che conosce la vostra fidanzata o la vostra compagna o quello che è insomma vedete un prodotto tutto sommato semplice volevo mostrare anche la fotocamera fotocamera in cui se volete utilizzare la dimensione da 13 megapixel il sensore al massimo della potenza 13 megapixel dovete scegliere di fare foto a 4 terzi dovete scalare un po invece se volete scegliere i 16 noni io ad esempio preferisco i 16 noni vedete che essenzialmente potete entrare davvero in mille parametri nel cercare di gestire controllare la vostra fotografia avete visto io in questo caso ho semplicemente attivato ad esempio intanto qua c'è il livello del fuoco oppure le classiche righe per la misurazione potete scegliere di fare lo scatto quando c'è il sorriso lo scatto avete visto con una mano avete visto che quando alzate il pollice o quando fate il segno vi a questo punto potete scattare la fotografia in automatico senza bisogno di fare alto quindi anche un software per quanto riguarda la fotocamera completo il risultato di questo 13 megapixel tanto vedete che lui metta fuoco e scatta a tempo di metta fuoco discreto sicuramente fotografare un bambino non sarà facilissimo un bambino che gioca non sarà facilissimo però per il resto invece tempi di scatto che sono discreti soprattutto ecco ottime foto quando c'è molta luce quando invece si entra in una zona un po' più rumorosa o con luci un pochettino meno evidenti insomma lì si fa un pochettino più di fatica c'è un po' più di rumore ma credo che solo due telefoni in questo momento abbiano risolto veramente quel problema sono il Galaxy S6 Edge e il Galaxy S6 anzi tre telefoni e poi l'LG G4 allora audio per quanto riguarda il nostro telefono siamo sottorizzati ovviamente su Radio Number One Dance che è una delle due radio che dovrebbero essere parte della vostra vita l'altra è Radio Number One sentite volume molto molto alto non c'è una grandissima definizione del suono difficile da ottenere in prodotti con uno spessore così ridotto ecco perché questo è un dettaglio che non vi ho dato questo è un telefono con uno spessore addirittura di 6,6 mm quindi veramente minimale addirittura più compatto rispetto allo spessore di iPhone quindi davvero un risultato eccellente a livello di costruzione di assemblaggio allora luminosità e visibilità alla luce del sole vedete l'angolo di visione è buono più che buono la luminosità secondo me anche questa ha un ottimo livello certo sotto la luce del sole si fa fatica a vedere qualunque tipo di prodotto però devo dire che il Wiko si difende più che bene allora rimettiamo la luminosità anche in automatico vedete che tra l'altro anche che insomma anche in automatico con un livello basso rimane comunque lo schermo visibile perché spesso insomma per risolvere problemi di autonomia i produttori scegliono quando si mette la luminosità automatica di abbassare proprio drasticamente la luminosità così tanto che in alcuni casi all'interno diventa difficile riuscire a leggere addirittura il display allora abbiamo detto tra l'altro ecco forse un dettaglio che non vi ho dato che la fotocamera fa dei video a 1080 pixel a 30 frame al secondo stiamo parlando della fotocamera principale ovviamente ci sono tutti i profili di connessione per quanto riguarda il bluetooth che è in versione 4.0 anche con il profilo A2DP c'è una radio FM che è un altro lato molto 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 positivo e poi tutto il gruppo classico di sensori che sono tipici insomma di qualunque telefonino abbiamo visto anche gradevole l'aspetto dal punto di vista prettamente estetico insomma un telefono che è realizzato secondo me con buona fattura allora io proseguo nel test di Highway Star 4G in arrivo presto ci sarà il Pure già in circolazione c'è il Wiko Ridge insomma sono molti prodotti con diverse fasce di prezzo per trovare insomma con un prezzo contenuto un prodotto che comunque offre tantissime possibilità è a livello dei grandi top di gamma no ma non lo vuole neanche essere secondo me dal punto di vista proprio della competizione con questo prezzo si va verso un profilo di pubblico sicuramente diverso ma sicuramente comprando questo oggetto non vi mancherà nessuna delle funzioni principali che oggi trovate sui grandi telefoni che rappresentano i top di gamma e soprattutto trovate una costruzione, una qualità costruttiva davvero notevole insomma se avete altre domande che riguardano il Wiko Highway Star 4G io come al solito sono a disposizione ciao